Restare nell'amore del Padre, che è il dono più grande di tutti, obbedire a Dio osservando i suoi comandamenti come ha fatto Gesù e poi metterli in pratica nella vita quotidiana perché essi tracciano la strada del vivere cristiano. È stato l'invito del Papa nell'Omelia della Messa a Santa Marta. Amare come ha amato lui, ha insistito Francesco, senza misura, senza tiepidezza o interessi personali, lasciando da parte tutti gli altri amori. Ci sono altri amori. Anche il mondo ci propone altri amori. L'amore al denaro, per esempio. L'amore alla vanità, al pavoneggiarsi. L'amore all'orgoglio, l'amore al potere, anche facendo tante cose ingiuste per avere più potere. Sono altri amori. Questi non sono di Gesù e non sono dal Padre. Lui ci chiede di rimanere nell'amore suo, che è l'amore del Padre. Pensiamo anche a questi altri amori che ci allontanano dall'amore di Gesù. E anche ci sono altre misure di amare. Amare a metà. Questo non è amare. Una cosa è volere bene e un'altra cosa è amare. Nell'amore di Dio, cuore della vita di ogni cristiano, ha concluso il Pontefice, c'è anche la gioia, altro dono che va custodito e alimentato. Dare gioia alla gente è infatti il compito e la missione prioritaria di ogni laico, sacerdote, vescovo o consacrato, secondo le parole di Gesù. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Grazie. Grazie. Grazie.